Siamo insieme a Marco del Comitato Nota Terzo Vallico di Rigoroso, sono molti anche i cittadini di Rigoroso che oggi hanno preso parte a questa manifestazione. Qualche impressione sulla giornata? La giornata è fantastica. Noi di Rigoroso è da anni che ci battiamo contro questa opera insensata. Quello che vorrei precisare più di tutto, e che mi fa veramente piacere, è la non-violenza di questa manifestazione. Perché ci accusano sempre di essere un movimento violento, invece qua ci sono di tutti, bambini, donne, anziani. Fantastica, è una giornata bellissima. Perfetto, e appunto la giornata di oggi è un inizio, nel senso che è una tappa. È anche un proseguio, perché sono anni che non nasce adesso questa battaglia contro questa opera, saranno circa dieci anni ormai che ci battiamo. Certo, ci auguriamo che non finisca oggi. Ci auguriamo che non finisca oggi, anche se ci augurassimo che finisca presto, perché vorrebbe dire che l'abbiamo vinta. Di sicuro noi non vogliamo, anche perché va della nostra vita, del nostro territorio. Perfetto, grazie mille. Buona fortuna e buona manifestazione. Ciao. Buona manifestazione a tutti.